Leonardo Silva Revisore Da 24 anni io penso che il teatro sia il luogo dell'osservazione e della relazione, innanzitutto tra persone. E penso che sia il luogo estremamente funzionale per le persone, perché al suo interno si creano e si formano materie assolutamente riferite a uomini e donne. Da 24 anni io pratico il lavoro d'attrice e affianco da 17 anni a questo lavoro quello di condurre laboratori in ambito scolastico-educativo e in ambito psichiatrico, come avete sentito, e quindi in dipartimenti di salute mentale. Ed è proprio a partire dal lavoro d'attore che vorrei raccontare come, secondo me, e il perché il teatro sia il luogo bellissimo del prendersi cura di sé, delle persone e fin anche delle cose. E allora, il luogo del laboratorio teatrale è un luogo in cui si svolge l'attività della persona, che è traslata però nell'attore. la sua attività è costituita da un'attività fisica e quindi muscolare e anche da un'attività intellettuale, cognitiva, cioè attraverso i sensi, io cerco di contattare la realtà che è fuori da me, quella che riesco a conoscere. e questo lo facciamo con due, l'attore lo fa con due obiettivi, con l'obiettivo di capire, comprendere quelle che sono le parole che costituiscono il corpo dell'attore, scusate, del personaggio, per interpretarlo e anche per metterlo nel corpo, quindi comprendere e mettere nel corpo quelle che sono le parole dell'attore. Ora, in questo rapporto, secondo me, dell'attore con il linguaggio, con il ripercorrere questo linguaggio, esiste un movimento molto interessante che replica costantemente l'aspirazione dell'uomo ad essere in qualche misura libero, libero probabilmente anche dalle parole. Quindi, per prima cosa, quello che si realizza in questo movimento tra personaggio, persona, attore e parole, è un circolo virtuoso, un movimento che tenta di liberare l'uomo dal condizionamento delle parole. In ambito psichiatrico, quando si sente parlare di stigma, si fa riferimento a un segno, a una parola, a qualcosa che si legge in faccia al malato, che si posiziona nel corpo e da lì è difficile che si sposti. Ora, quindi, analizzare il percorso dell'attore nel gioco, nel dialogo con le parole, significa proprio cercare, come per tutte le persone, di dare la possibilità di mettere in discussione la propria condizione, la condizione, quindi, di ciascuno figurarsi per il malato mentale. La persona che fatica ad avere delle relazioni sociali è in difficoltà. Prendersi cura, quindi. Ritornando al teatro, e cercando di capire il valore che il teatro ha in ambito di salute mentale, quindi in ambito anche educativo per ciascuno di noi, dobbiamo considerare che la persona è quella che fa, che costituisce l'attore. Le parole sono quelle che costituiscono il personaggio. e l'attore che cosa fa? Sostanzialmente utilizza le parole del personaggio, le veste, le osserva, le accarezza, le mette su di sé, per riuscire a realizzare quello che è il personaggio tramite l'interpretazione. Perché noi che guardiamo dobbiamo riuscire a riconoscere che, ecco, quello che vedo è effettivamente Amleto. Perché Amleto, quando dice essere o non essere, cammina per il palco e si muove. Diversamente da Riccardo Terzo, che invece dice l'inverno del nostro scontento, eccetera, eccetera, è gobbo ed ha qualità, il rapporto di movimento diverso. Dicevo, in questo rapporto dell'attore che è persona si sviluppa l'interpretazione, ma l'attore che è traslato dalla persona in realtà realizza questo quando attinge alla propria sensibilità, alla propria capacità fisica. E cosa accade? Accade che simpaticamente l'attore, impattando le parole, utilizzandole, facendole saltellare, mettendole su di sé, rende estremamente vivo il linguaggio, ma soprattutto il rapporto che lui ha con le parole. Cosa accade? In realtà le parole saltellano, vive, si formano, entrano in relazione con le cose. È un gioco che in qualche modo dovremmo ricordare, perché da bimbetti le parole collegate alle cose quando eravamo piccoli scaturivano così nel tentativo di intercettare una realtà fuori da noi. Ma cosa accade? Nell'età adulta non è più così. Questa potenza pura del sorgere delle parole un poco si assopisce, probabilmente con l'abitudine o probabilmente con l'attitudine che abbiamo di credere vere e di conoscere per vere le cose. Ma le parole non sono le cose. Ed ecco allora che in questo gioco della relazione il teatro forse iniziamo a intuire quale tipo di potenza possa scaturire a tutti gli effetti e per tutti. Di conseguenza nel laboratorio teatrale in ambito di salute mentale io di solito accade così che arrivo e dico agli astanti presenti, i miei colleghi di laboratorio e dico bene, adesso qui noi faremo teatro e loro rispondono solitamente no, 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 io non le faccio quelle robe lì. No, no, non mi interessa, io lo so che cos'è il teatro, non lo voglio fare, non son capace, mi vergogno. No, scusa ma... Allora facciamo così, io dico non chiamiamolo teatro, non lo chiamiamo affatto, facciamo. Facciamo qualcosa insieme. Cioè cosa facciamo? Beh, per esempio dico io vorrei mettere adesso una musica e vorrei che in questa musica noi ci muovessimo liberamente. Chi? No, no, io non ballo, no, no, io non voglio ballare, mi vergogno in mezzo a tutti, tutti mi guardano. No, scusa dico io, io non ho detto ballare, ho detto ci muoviamo. Bene, se io riesco a fare accadere qualcosa di interessante con il mezzo del gioco, qualcosa di non stupido o di troppo in qualche modo strano, ecco che qualcosa nel gruppo di lavoro cambia. Il gruppo di lavoro che incontro in ambito di salute mentale è molto vario, è difficile, è difficile far penetrare il lavoro dell'attore all'interno di questa situazione perché le persone che incontro appunto sono indurite nel corpo, sono indurite nelle giunture. Si palesa un blocco nella persona, io lo vedo e le persone lo dicono, io sono bloccato, non riesco, faccio fatica, non riesco a relazionarmi, ma come posso cambiare? Ecco che allora la forma del gioco attraverso il teatro acquista un senso particolare, succede qualcosa di diverso, allora noi mettiamo la musica che non volevamo ascoltare e iniziamo a muoverci nel corpo. Muoversi nel corpo per una persona che porta nel corpo un dolore non è una cosa così immediata, ma tutto si risolve scartando il tema della forma del lavoro e del movimento del corpo che compiamo. Non c'è nessuna forma, nessuna pratica, nessun riferimento a qualche tipo di danza, a qualche tipo di movimento che ci costringerebbe ad entrare in un canone. E allora iniziamo a parlare di giunture e allora iniziamo a capire se il polso esiste, che possibilità ha, e che cosa presenta sotto le dita e come si coniugano con il polso. E dal polso passiamo al braccio, alla spalla, ed ecco che accade che il mio pensiero, il pensiero di me che agisco è realmente nel corpo, ma non sono solo parole e non è una forma strana o visionaria di approcciare il corpo nel laboratorio teatrale, è proprio la possibilità che io ho di stare con ciò che faccio. Gli occhi sono a posto, anche se si spostano da qua, le orecchie sono a posto, io ascolto la musica e faccio. Se il pensiero, la mia attenzione, si allontana dal corpo, io lo vedo, lo segnalo e chiedo di rientrare dentro questa condizione di assoluto senso dell'ordine. Quello che accade nei laboratori è proprio questo. Attraverso il corpo io percepisco la possibilità dell'ordine, di qualcosa di carezzevole, di qualcosa che soprattutto io conduco in maniera libera. Libera dal condizionamento, quindi non solo delle parole, ma anche dell'utilizzo del corpo, che, come è naturale e facile comprendere, torna a rifiorire. Ma cosa accade nella rifioritura? Sia nelle parole e sia nell'utilizzo del corpo accadono cose particolari. Quando io parlo, il mezzo formidabile della parola utilizzata dall'attore che io replico nel laboratorio teatrale è che per impattare la parola io devo usare la mia voce. Lo strumento della voce che impatta le parole crea un circolo virtuoso di relazione per cui, semplicemente, il sangue circola magari un pochino di più. Il riciclo del sangue è un pochino più accentuato e, alla fine, arriva anche un po' di buon umore, a dire il vero. Poi, nella classe, succede che a un certo punto è possibile che, attraverso un'indicazione, io abbia la percezione di uno spazio che attorno a me si muove. Semplicemente facendo un piccolo spostamento, quando l'attore decide di spostare una sedia, ecco che c'è la percezione chiara che tutto cambia e si sposti attorno a me. Se anche la sposto solo di 45 gradi, cambia il mio rapporto spaziale, il mio fronte diventa questo, so che voi siete lì, ma se il mio collega è alle mie spalle e se prima a lui ho detto amore... Ora, se io glielo devo dire in quest'altra visione e postura spaziale, io ruoterò di 45 gradi la mia testa, so che lui è lì e questo dire amore cambia. Ora, è molto importante, secondo me, avere anche solo la sensazione della possibilità che fuori da me la realtà possa cambiare. Là dove il malato mentale, la persona in difficoltà o il bambino che deve crescere non c'è distinzione, apprende fisicamente, lo sente nel corpo oppure nella voce che qualcosa può cambiare, beh, succedono cose veramente molto interessanti. e allora io decido che da questa immobilità noi possiamo iniziare a giocare. Il gioco consiste proprio nell'usare il lavoro che io conosco sull'attore. L'attore deve sviluppare un certo numero di azioni che sa svolgere e sempre maggiore è il numero. deve essere allenato nel corpo, pronto, reattivo. La voce deve essere duttile, pronta a cambiare di tono, ad impattare quelle parole, a mettere in campo quel circolo che è virtuoso di restituzione da parte della parola impattata di questa grande energia che è vitale. Certo non è così semplice perché in realtà c'è una grande reticenza. Il malato è appunto quella costituito in una classe che il più delle volte appunto dice no io non ho voglia ed è variabile perché se una settimana fa aveva voglia di fare anche due giorni fa oggi non ce l'ha più. E non è semplice bisogna trovare il modo di come fare e come fare è significato semplicemente non avere programmi. Cioè non decidere nulla del da farsi con la classe di lavoro ma restare aperta a una sorta di dialogo costante. Quindi un rapporto che si sviluppa tra me e il collega di laboratorio o se volete il paziente in maniera molto naturale dialogante non è mai un rapporto impositivo da parte mia anche se io sono molto energica in ciò che dico non c'è pietismo nei nostri rapporti c'è un rapporto che tende ad essere paritario e quindi molto normale. E da questo rapporto possono scaturire delle cose molto interessanti. si realizza una sorpresa ma non la mia perché io li vedo sempre all'interno e soltanto all'interno del laboratorio teatrale per me sono sempre bravissimi. La sorpresa in realtà è riportata dagli operatori i quali sono con noi nel laboratorio teatrale vedono il lavoro che svolgiamo insieme e lo fanno e poi seguono il paziente nel percorso di cura oltre il laboratorio teatrale. Di solito il rimando è che se di fronte al personale sanitario le persone sono chiuse reticenti a parlare quasi immobilizzate nel laboratorio teatrale accade qualcosa di diverso. Certo, bisogna impostarlo da un punto di vista del gioco del saperlo in qualche modo trattare. Siamo sempre noi alla ricerca del nostro modo di agire le parole e le cose. io credo fermamente che il valore del teatro e la carezza fondamentale del teatro che io ho cercato di presentare declinato nel lavoro dell'attore cioè di colui che impatta le parole che mette in campo questo circolo virtuoso di relazione poi replicato nel teatro che è una somma di relazioni. Penso che, dicevo, la carezza del teatro consista proprio in questo cioè nel segnalare che tra il personaggio l'attore, le parole e la persona c'è una piccola distanza da colmare e attraversando questa distanza si crea un movimento che esorta chi lo fa o anche chi lo osserva a concludere che c'è una distanza fantastica tra le parole e l'essere. ed è questo che senza scomodare nessun tipo di ragionamento particolare o filosofico ma entrando nel corpo dell'attore nella pratica che fa dell'uso del proprio corpo e delle parole si percepisca in modo tale che lo stigma di cui abbiamo parlato quelle parole che a volte si appiccicano sull'essere in questa distanza praticata possano smettere di immobilizzare le persone e quindi in sostanza in questa pratica fantastica fare riecheggiare nella persona la possibilità di sentirsi liberi liberi nella misura in cui si ridiventa in qualche misura autori del nostro parlare autori del nostro parlare in relazione il teatro è tutto questo il lavoro dell'attore non fa che fare spostare e fare ballare tutte quante le parole grazie